La storia si ripete, arriva una multinazionale in Sardegna e rileva un'attività in dismissione, poi cambia idee e lascia. Si affacciano nuove manifestazioni di interesse, ma poi niente si concretizza. Nel Sassarese è successo per diverse attività nelle aree industriali, la più clamorosa la Vinils, con illusioni durate per anni. Giustificabile dunque la delusione e la rinuncia a sperare in una soluzione da parte dei minatori di Olmedo, che hanno appena assistito la rinuncia alla concessione mineraria della società greca, vincitrice dell'ultimo bando. Ora la regione sta predisponendo un nuovo avviso pubblico per l'affidamento della concessione del sito minerario di Olmedo, come ha assicurato l'assessora dell'industria Maria Grazia Piras, nel corso di un incontro convocato a Cagliari con i sindacati e una delegazione di lavoratori. La società greca ha comunicato formalmente alla regione la sua decisione. Non possiamo che prenderne atto, ha commentato l'assessora Piras. Per quanto ci riguarda, aggiunto, abbiamo fatto tutto il possibile perché dopo l'abbandono della precedente società che aveva in concessione il sito l'attività estrattiva potesse riprendere entro breve tempo. La nuova rinuncia può allungare i tempi della ripresa produttiva, ma non cambia il nostro obiettivo. Intanto, ha detto ancora l'assessora, abbiamo dato le prescrizioni di legge alla società uscente per la custodia e il mantenimento della miniera. L'intenzione della regione è di contrarre i tempi tecnici e pubblicare presso il nuovo avviso. Nei prossimi giorni, ha assicurato Piras, saranno valutate anche gli strumenti per esaminare le questioni che riguardano l'eventuale accompagnamento dei lavoratori per il periodo di nuova concessione.